chi è che mi disturba come chi parla ma sono io il municipio beh sì avete ragione non mi vedete bene oggi mi hanno spento tutte le luci ma cavoli devo pensare a tutto sempre io luce o finalmente vi vedete sapete perché siete qui oggi no beh ve lo dico io oggi vi racconterò una storia la mia storia la storia della creazione di villa verri in E allora, che ne dite? Avete visto che potenza? Come? Cosa dite? Non ci credete sia andata veramente così? Va bene, dai diciamo che forse ho esagerato un po' e le cose non sono proprio andate così. Però di cose belle qui a Biassono ne ho fatte e come. E allora, che ne dite? E allora, che ne dite? E allora, che ne dite? Ma sapete, non è stato facile. Ho dovuto destreggiarmi attorno a molti pericoli. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la deforestazione, la deturpazione del territorio possono distruggere i nostri bellissimi paesaggi e rendere vano ogni mio sforzo per rendere grande questo paese. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la diastole di risorse, la diastole di risorse, la diastole di risorse. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la diastole di risorse, la diastole di risorse, la diastole di risorse. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la diastole di risorse, la diastole di risorse. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la diastole di risorse, la diastole di risorse. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la diastole di risorse, la diastole di risorse. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la diastole di risorse. Libero da schemi, che riesce a valorizzare al massimo le potenzialità locali, tenendo presente le esigenze della popolazione attuale nel rispetto di quella futura. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la diastole di risorse, la diastole di risorse. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la diastole di risorse, la diastole di risorse. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la diastole di risorse. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse. L'inquinamento, lo sfruttamento di risorse, la diastole di risorse. Grazie a tutti.